le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 22 gennaio ariete luna positiva marte venere che vi sostengono nelle vostre iniziative si tratta di una giornata interessantissima soprattutto da un punto di vista sentimentale toro la situazione rimane molto interessante grazie all'intraprendenza che dimostrate ma il sole in acquario può stancarvi venere rende difficili i rapporti sentimentali gemelli state recuperando la forma migliore soprattutto torna la voglia di divertirvi di trascorrere momenti spensierati belli i rapporti sociali cancro all'improvviso sembrate incapace di prendere iniziative sul lavoro ma si tratta di un annebbiamento momentaneo marte vi fa sognare qualche volta vi illude leone avete vissuto alcuni giorni incredibili sono successe tante cose avete fatto progetti importanti per il futuro ora dovete riflettere in amore siete troppo remissivi vergine mercurio in aspetto felice può darvi una spinta in più sul lavoro oggi e nelle prossime settimane intanto però dovete pensare anche al relax bilancia il buon umore con cui vi sveglierete sarà l'arma vincente per iniziare a mettere ordine nelle questioni professionali la serata si pronuncia emozionante per l'amore scorpione la stanchezza comincia a farsi sentire conviene non organizzare una giornata troppo impegnativa l'amore può darvi qualche delusione sagittario la luna mica vi mette in comunicazione con amici vecchi e nuovi che vi regaleranno momenti esaltanti marte però crea tensione nella coppia capricorno mercurio è pronto a darvi quella verve indispensabile per puntare con decisione a tutti gli obiettivi che vi siete prefissati ricordate che non siete in perfetta forma fisica acquario avete ottime opportunità per mettervi in mostra per far valere il vostro fascino la luna può regalarvi occasioni d'oro la passionalità certo non vi difetta pesci la luna negativa non può rovinare del tutto la giornata basterà mantenere la calma e tutto andrà per il meglio giova e mercurio favoriscono gli incassi e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus